L'appuntamento è per domenica 2 aprile con il raduno Fiat 500, lo ricordiamo, con il patrocinio del Fiat 500 Club Italia in collaborazione con il comune di Piacenza, il patrocinio della provincia di Piacenza e i comuni di Ponte Nure, Cadeo e Carpaneto. Ho in linea con me Lorenzo Achilli, che è il fiduciario per Piacenza del Fiat 500 Club. Benvenuto su Radiosound. Benvenuti tutti i radioscoltatori. Il raduno si intitola in 500 al Museo delle Carrozze. Che cosa accadrà? Ci sarà questo raduno a scopo solidale e anche a scopo culturale ed enogastronomico. Cerchiamo di mettere tutti insieme tutte queste cose. Facciamo questo incontro al Museo delle Carrozze per dare questo risuoto culturale al nostro bellissimo museo. Poi ci sarà un aperitivo offerto dal Consorzio Tutela Salumi di Piacenza e della cantina di Vicomarone e dopo ci saranno i saluti a tutte le persone presenti di quali faremo solidarietà, tra i quali anche il Progetto Vita, che quest'anno copia i 25 anni. Sono con Ernesto Grillo, tal proposito, consigliere di Progetto Vita, che fra le altre cose, parlavamo del 25ennale con Lorenzo Achilli, dà un primato a questa manifestazione perché sarà la prima manifestazione cardioprotetta. Mi piace ricordare che Piacenza città primogenita nell'unità d'Italia, ma è anche grazie a questi 25 anni di Progetto Vita e anche la città primogenita per quello che riguarda la defibrillazione precoce sul territorio, con un risultato straordinario che tutti ci invidiano, di oltre 140 persone salvate grazie all'intervento dei laici, non professionisti quindi della sanità, con l'utilizzo del defibrillatore. E per noi è importante partecipare a questi eventi, ringraziamo gli organizzatori, perché solo i defibrillatori non salvano la vita. Occizzatini devono essere consapevoli di essere in grado di salvare una vita, quindi creare cultura, quindi cardioproteggeremo questa manifestazione. Nel corso del pranzo che ci sarà, domenica 2 aprile, ci sarà anche una dimostrazione sull'utilizzo del defibrillatore. Questo momento di cultura, una dimostrazione su come fate l'utilizzare il defibrillatore e prepararle in caso di necessità. Siamo ancora con Lorenzo Achilli, fiduciario per Piacenza del Fiat 500 Club. Vogliamo dare qualche indicazione ai nostri ascoltatori su come fare a partecipare naturalmente al raduno, lo ricordiamo, di domenica 2 aprile? Con piacere devo comunicare che l'altro giorno abbiamo raggiunto un numero massimo di iscritti, quindi abbiamo fatto il pieno. Questa cosa ci riempie di soddisfazione, perché la gente ha creduto, abbiamo fatto il pieno. Quindi faremo molta solidarietà perché ci saranno molti partecipanti. Grazie a Lorenzo Achilli, fiduciario per Piacenza del Fiat 500 Club, e a Ernesto Grillo, consigliere di Progetto Vita, per essere stati con noi. Grazie a voi e grazie a tutti gli avanti e a tutti gli ascoltatori.